Il progetto va capito, va condiviso, va anche interpretato nel mondo giusto perché intanto non si parla di fusioni di comuni ma si parla di sinergie. Io credo che il futuro oggi stia davvero nel collaborare, di vedere le nostre comunità come in realtà un'unica grande comunità, soprattutto quando ci affacciamo al mondo del PNRR e dei bandi europei. Oggi pensare di affrontare la sfida del futuro che siamo chiamati ad affrontare da un punto di vista amministrativo da soli significa non aver capito che si rischia di rimanere a terra. Questa è la risposta del sindaco Mario Conte dopo la bocciatura con riserva del progetto Grande Treviso da parte del sindaco di paese Cateo Berti che seguirebbe la strada di una collaborazione su progettualità. Ogni realtà ha la sua piccolarità, le sue caratteristiche, la vedo un po' difficile questa unione. I due primi cittadini, seppur vicini di partito entrambi della Lega, sono al momento lontani nella visione di un futuro dei propri comuni. C'è chi parla di preservare l'identità e chi invece punta all'unità per affacciarsi all'Europa e al futuro. I soldi che potenzialmente potrebbero arrivare nei nostri territori sono davvero tanti ma arriveranno solo se ci uniremo. Quindi se ci sono dei sindaci che hanno delle perplessità, dei dubbi, ovviamente il progetto è aperto sia in entrata ma che in uscita. Se qualcuno pensa di poter affrontare la sfida dell'Unione Europea, del PNRR da solo, lo può fare. Io sono convinto che vinceremo soltanto se rimanemo uniti e se condivideremo quelle che sono le progettualità. Grazie a tutti.